Pedinari siamo in Via Lago di Borgiano, lei diciamo settimanalmente quasi torna ad accendere i riflettori sulla situazione delle periferie cittadine, insomma questa mattina è venuto qui nella zona dove si trovano queste palazzine sgomberate ormai da diversi anni. Intanto subito un fatto di cronaca, questa mattina mentre rilasciavamo l'intervista ad altre emittenti televisive private siamo stati accerchiati da tipi loschi che ci hanno minacciato e di insultato, poi hanno sparato dei petardi quindi per intimorirci e perché evidentemente non è gradita la nostra presenza che veniamo qui a denunciare l'illegalità, poi grazie alle forze, agli agenti della Digos presenti che hanno garantito la nostra incolumità. Ora noi siamo venuti qui per denunciare la grande farsa perché si sta procedendo per l'abbattimento del ferro di cavallo, hanno sgomberato alcune famiglie, stanno venendo qui ad occupare abusivamente quindi si sta spostando l'illegalità di 300 metri dal ferro di cavallo in Via Lago di Capestrano Via Lago di Borgiano, questa è la più grande vergogna, la più grande farsa, si spendono milioni di euro per abbattere una struttura pubblica e si stanno spostando qui, qui sono pieno di occupanti abusivi, persone che non hanno i requisiti per stare negli alloggi popolari e continuano a delinquere criminali, spaccio di droga tutte le ore dalla sera alla mattina, palazzi utilizzati come bivacchi, sporcizia diffusa dappertutto e poi sentite la vergogna delle vergogne nel mentre io con altri cittadini ci battiamo per ripristinare la sicurezza contro delinquenti e criminali sta arrivando in consiglio regionale un emendamento per sanare gli occupanti senza titolo delle case popolari, vuol dire che al danno la breffa che gli occupanti senza titolo che non hanno diritto potrebbero soffrire della sanatoria grazie a coloro che stanno in regione e che vogliono approvare questo emendamento, io sto facendo una guerra, una battaglia fino alla fine quindi chiedo con forza unità fissa di polizia H24, chiedo lo sfratto degli occupanti degli alloggi popolari immediato e chiedo di ripristinare legalità per questi cittadini non ce la fanno più, ci sono questi due palazzoni che dovevano essere sgomberati quattro anni fa, stanno qui a rischio crollo con anche occupazioni abusive con un ricettacolo di bivacchi, di criminali, di delinquenti, questo è veramente il far west la terra di nessuno, si faccia presto e non ci si limiti solo alla propaganda becera, oscura e vergognosa dell'abbattimento del ferro di cavallo, i problemi sono anche qui, anche questo è un altro ferro di cavallo.